ciao dall'italian soccer team da paolo oggi faremo il primo tutorial su un colpo che è spettacolare nel calcio l'arabona lo divideremo in tre step e mi raccomando scaldatevi sempre prima di iniziare a fare gli esercizi buon divertimento primo step la rincorsa fate due passi indietro e poi uno o due passi laterali dalla parte del vostro piede più forte secondo step il piede d'appoggio il piede d'appoggio deve essere vicino al pallone un piede d'appoggio troppo lontano dal pallone non vi permette di calciare terzo step l'impatto con il pallone caricate la vostra gamba e colpite il pallone con la parte centrale del vostro piede in questa zona caricate di calciare il pallone un piede d'appoggio troppo lontano inizazato non 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 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info